E allora i punti di questo programma vorrei velocemente dirveli, Matteo fammi un segno se vado troppo in là, sono tre meno e tre più, meno tasse, meno Stato, meno Europa, tre più, più aiuto a chi ha bisogno, più garanzie per ciascuno di noi, più sicurezza per tutti. Il primo punto quindi riguarda, e vi faccio magari una domanda, io ho usato questo gioco, ma che non è un gioco, rivolgersi alla propria gente per chiedere il loro parere, perché io credo che sia un dovere, io sento un dovere, prima di consolidare delle nostre precise posizioni politiche, di sentire il parere dei cittadini, di sentire il vostro parere.